Impressione a caldo del nuovo AK550, molto a caldo, molto a caldo perché prima di provare l'AK550 siamo scesi dal nuovo T-Max, quindi abbiamo il confronto proprio con quello che è il riferimento dei maxi scooter sportivi. Per Kinko sicuramente è buona la prima, buona la prima perché lo scooter è assolutamente valido, soprattutto a livello di guida. Parto innanzitutto da quello che mi è piaciuto meno, che sono davvero delle piccolezze, dei piccoli peccatucci, più che altro a livello di ergonomia, ad esempio il plexi che ogni tanto deforma un po' la visuale, la strumentazione che a volte con la luce del sole non è chiarissima e il sistema d'accensione che va un attimo diciamo, va capito ecco. Per il resto tutte note positive a partire diciamo dalla guida, guida che convince soprattutto per il motore, il bicilindrico ha sempre tanta coppia, è molto dolce la risposta del gas, molto intuitiva, c'è pochissimo ritardo e a livello di telaio invece anche qui solo impressioni positive. Il telai in alluminio accoppiato alle sospensioni di ottima qualità, sicuro è una guida innanzitutto agile quando si è appena preso in mano lo scooter, quindi nei primi metri, anche chi magari non è proprio abilissimo si troverà subito al suo agio perché è molto agile anche nel traffico, è compatto e il peso è ben distribuito. Poi però quando arrivano le curve non si tira indietro, rimane sempre molto composto anche se si prova a esagerare a guidarlo in maniera sportiva, anche perché la luce a terra è assolutamente degna di nota ed è difficilissimo toccare con il cavalletto. Ultima cosa, sicuramente una nota positiva da sottolineare è la frenata, frenata che è affidata a Brembo quindi sulla potenza era quasi scontato l'effetto, ci ha stupito anche la modulabilità, non c'è un attacco aggressivo ma anzi quando si frena ad esempio nel traffico, quando si fa lo slalom non c'è l'effetto chiusura di sterzo. Ultimo ma non meno importante sicuramente due parole sul prezzo, prezzo che è sotto i 10.000 euro di poco, siamo a 9.790 euro, ci sarebbe potuto essere il controllo di trazione ma considerato a quanto poco è venduto sicuramente non se ne sente così tanto la mancanza.